Il torneo internazionale 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 Grazie a tutti. E' un peccato che non tirano. Eh, i schemi li fanno, eh? Uè, uno a uno. Balasoi, balasoi luci. Fanno bei schemi, fanno, eh? Ben lointi buco. Schema, gol. Calcio la mezzia, che felucnia. E' bravo il due, eh? Vai, bello, vai. Fanno venti minuti, no? Eh? Venti minuti. Due da quindici adesso. Non penso. Due da set. O uno da quindici, sai? C'è già undici minuti. Allora uno da quindici. O da quattro. Vai, vai, vai che segnale, bello. Tira. Aia. Sì, è perché mancago. No, perché giocano. Giocano. Giocano bene, no? Giocano la pavola. Dobbiamo vedere già come stamattina. Toccarlo a segnalare, fai l'armi. Ovediamo. Toccarlo a segnalare, fai l'armi. Sto sgritando perché dovrebbe essere già sulla palla, tremendo. Sto sgritando, bravo, Luschnia. 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 Sto sgritando, bravo, professori Udi. Sto sgritando, bravo. Sto sgritando, bravo. 1-1. 1-1. Calcio la Mezzia che è Felluschnia. E' il primo tempo? Sì, primo tempo. Grazie. 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 Grazie.